Gennaro Gallo, uno degli organizzatori di questa manifestazione di kickboxing, finalizzata però anche ad un'altra iniziativa. Alla donazione del sangue, che oggi è un po' raro perché il sangue non si fabbrica, quindi oggi abbiamo fatto una distribuzione di opuscoletti inerenti alla donazione e poi ecco un evento sportivo, tutto diciamo non nel circuito federale ma è solo diciamo proprio alla finalità dell'ospedale Pasquale, Pasquale di Napoli e diciamo questa cosa qua. Questo uno sport sembrerebbe violento ma non lo è in effetti? In effetti lei lo vede, non è violento perché i colpi vengono portati e vengono non affondati diciamo e point fighting sarebbe semi-contact, non è un contatto pieno diciamo quindi perché la kickboxing si va in varie componenti, noi facciamo point fighting quindi meno violento diciamo ma in genere non è violento come sport. Una disciplina anche olimpica? A breve, speriamo il 2016 dovremmo andare alle olimpiadi, non è ancora ufficiale.